La giunta c'è, io aspetto alcune cose, credo che la prossima settimana potremmo dare già i nomi che comporranno questa giunta, ci sono alcune cose che dobbiamo chiarire. Io continuo a chiedere ai partiti di rivedere la composizione nel numero e di dare una tangibile espressione territoriale dove ogni luogo possa essere rappresentato da un suo rappresentante. Però veda, al di là dei numeri 12-8 e al di là di sterili ed inutili demagogie, è importante lavorare e arrivare agli obiettivi. Io credo che entro il 2013 questa amministrazione riuscirà a centrare gli obiettivi. Primo fra tutto l'aeroporto. Per cui facendo questo ritengo di avere fatto fino in fondo il nostro dovere. In due anni di amministrazione credo che le risposte che abbiamo date siano state importanti, ma soprattutto siano state eticamente inattaccabili e credo comunque in ogni caso molto rispettosi della collettività.